Imposti le opzioni di stampa. Avvii la composizione del piano. Ottieni il piano in formato editabile. Hai le informazioni generali. Un elenco conto e le prescrizioni previste. Hai le prescrizioni e la relativa cartellonistica. Hai i segnali in formato A4 da affiggere nel tuo cantiere. Stampi su carta o esporti il documento nei formati doc, HTML o PDF.